Ancora una cosa, di là ci sono Simone e Lorenzo che stanno registrando e quando gli ho chiesto potete per favore venire a registrare il mio concerto loro dicono no, è tutta musica classica, chissà che noia allora adesso gli facciamo sentire che anche Betuvene è un po' rock poi però non distruggo il pianoforte perché il lavoro è periodo della bottiglia qua si è andato grazie 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 a tutti. 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 Grazie.